Ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video Sì, ciao ragazzi Oggi avevamo voglia di fare un giretto senza andare troppo lontano e quindi abbiamo pensato, siccome noi viviamo a Parma ed è circondata da luoghi ricchi di storia di portarvi in un altro dei borghi più belli d'Italia che è Vigoleno Vigoleno, sul confine tra Parma e Piacenza Cosa dire, qui dietro già lo intravedete l'imponenza di questo borgo medievale è molto bello è tutto contornato da una cinta muraria con tutti dei merletti e poi dentro c'è il cuore del borgo quindi cosa facciamo? Ci avviamo e andiamo a vedere com'è dentro Sì, a tra poco Ciao ragazzi L'accesso al borgo avveniva tramite un rivellino che nell'antichità veniva costruito a protezione del borgo Ok ragazzi, qui entriamo nel cuore del borgo dove troviamo la fontana non so se l'ho impallata dove c'è il mastio e dove si affaccia l'oratorio e la cisterna e anche il vento che mi porta via e guardate se siamo solo noi in un momento di grande calma Noi ovviamente ci siamo fermati per mangiare qualcosina e quindi ci sono tanti ristoranti noi abbiamo scelto di fermarci in una piccola nottega per mangiare qualcosa di veloce e adesso vi diciamo com'è Grazie a tutti Ragazzi alla mia sinistra la pieve di San Giorgio edificata nel XII secolo La pieve è costituita da tre navate sostenuta da pilastri All'interno della pieve a freschi del XV secolo Quindi cercheremo io la mano di entrare nonostante il buio E di riprendere almeno fino all'altare e vediamo quello che riusciamo a farvi vedere Seguiteci, vai! Grazie a tutti! Questa è la torre sud Che è la parte in realtà meno pericolosa di tutto il castello Perché gli attacchi provenivano, come è facilmente intuibile, dalla parte meno scoscesa E quindi è meno facile che attaccassero da questa parte In questo punto abbiamo il passaggio dalla parte difensiva Siamo arrivati nella stanza degli strumenti di tortura Ragazzi qui abbiamo trovato la ghigliottina L'agonia La banca della tortura E il ceppo per la decaditazione No ma senza vento oggi Alè, arriviamo in venta Ok ragazzi siamo arrivati sulla torre del castello Il nostro giro per Vigoleno finisce qui Peccato Perché io starei a dormire qua al castello Sì, però tu prenderesti residenza Sì, proprio residenza La giornata è stata stupenda Bellissima E il borgo è tenuto benissimo Ben ristrutturato Ordinato Quindi merita di essere visitato Sì, assolutamente Merita ovviamente di stare nell'elenco dei borghi più belli d'Italia Perché credo che veramente lo sia Io abbraccio così perché sto tenendo Vedendo Sì, credo che adesso col vento che stia tirando Non sentiremo più niente Assolutamente Proprio adesso Va bene, va bene Così al vento non si comanda Ragazzi Se vi è piaciuto questo video mettete un mi piace E restate con noi sul canale Le App in Tube di Alemano Ciao Ciao Ciao